Siamo venuti ad Amazon Go e adesso proviamo se con l'applicazione di Amazon Go riusciamo ad entrare che abbiamo stiamo aprendo l'applicazione scrivete continui qua ci spiega come funziona ok abbiamo fatto l'accesso con Amazon Go e adesso possiamo entrare dobbiamo entrare ok ok è possibile? ok quindi adesso stiamo scansionando per la prima persona ok e scansioniamo per la seconda persona grazie per venire ora qualsiasi cosa prendiamo verrà accreditato sul nostro conto Amazon per poi pagarlo automaticamente all'uscita adesso Michela sta prendendo l'acqua prendi diciamo l'ultimo dai ok allora Michela ha preso la bottiglietta d'acqua automaticamente i sensori hanno rilevato che Michela ha preso la bottiglietta e quindi all'uscita dalla cassa e quindi all'uscita dalla cassa e prendi le Doritos sono adesso usciamo da qua grazie per venire ok, grazie vai automaticamente siamo usciti senza pagare niente, non si paga niente, non si paga vai siamo usciti senza pagare non si paga